E salve a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di Star Wars episodio 9 l'ascesa di Skywalker questa non sarà una recensione ma sarà semplicemente il mio parere da non esperto assolutamente di cinema da spettatore medio diciamo che va a vedere il film e vi dice cosa ne pensa mi dirò cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto non sono assolutamente delusissimo come lo fui con Endgame ma c'è un bel po' che non va a mio parere in questo film comunque ci saranno spoiler ragazzi quindi se non volete spoiler se non avete ancora visto il film chiudete immediatamente il video poi ci rivediamo magari dopo che avete visto il film così ne parliamo qui sotto nei commenti prima di iniziare vi ricordo che ho aperto un canale twitch lo trovate qui sotto nella descrizione del video sto facendo live praticamente ogni giorno facciamo due chiacchiere proprio in diretta veramente figo comunque allora cominciamo a parlare di questo film e cominciamo proprio dai titoli di testa del film che ci dicono che si è intercettato un messaggio di Palpatine che appunto annuncia il suo ritorno e già qui ho storto un attimo il naso cioè non si era mai nominato Palpatine negli altri due film e qui adesso se ne spunta fuori dal nulla insomma questo mi ha lasciato un po' perplesso però mi son detto ma spiegheranno un po' perché è tornato no si vede praticamente nelle scene iniziali Kylo Ren che va nel pianeta dove è nascosto e si vede lui appunto con questi cavi dietro la schiena con questo macchinario che lo tiene in vita e non spiega assolutamente nulla di come è rimasto in vita dice una mezza frase se non sbaglio sull'immortalità una roba del genere adesso non ricordo con precisione che è diciamo penso sia una citazione alla storia di Darth Plagueis quella che fecero nella prima trilogia il problema è che magari un accenno un minimo accenno a quella frase a quella storiella di Darth Plagueis lo poteva dire magari però ci potrebbe anche stare hanno spiegato anche Snoke in questo modo facendolo vedere in un frame un mezzo frame appunto in questo laboratorio enorme dove si trova Palpatine quindi Snoke è semplicemente una marionetta creata da lui e a me questa spiegazione basta e avanza sinceramente non avevo bisogno di altro perché il fatto che Palpatine abbia orchestrato tutto da dietro le quinte proprio come un burattinaio a me sinceramente piace come cosa il problema è che l'hanno fatto uscire un po' dal nulla questo Palpatine magari sarebbe stato figo se ci fosse stata una scena nell'episodio 8 a fine film proprio che ti faceva vedere nell'ombra Palpatine o una cosa del genere il problema è che non avevano intenzione di mettere Palpatine quando hanno fatto quel film sicuramente e a proposito di questo io non riesco a capire perché non abbiano dato in mano tutti e tre i film a J.J. Abrams perché c'è stata questa sostituzione del regista nell'episodio 8 non lo riesco a capire non sono informato non sono le notizie ma doveva farli tutti e tre lui punto firmavi un contratto per tutti e tre i film perché questo fatto di dover correggere gli errori che sono stati fatti dall'altro regista nel film precedente in questo film è una cosa che a me non sta bene ti fai tutti e tre i film perché non stiamo parlando di una saga qualunque stiamo parlando di una delle saghe più importanti nella storia del cinema pop e del mondo pop dell'immaginario pop in assoluto questa è una cosa inconcepibile ti facevi il contrattino di tre film punto cioè è assurda questa cosa che ci deve essere il film di mezzo che non ti sta bene perché non l'hai diretto tu e allora devi rimaneggiare un po' alla bene e meglio in questo film comunque il film a me in generale è piaciuto ma ci sono delle cose nel particolare che mi hanno fatto storci un po' il naso una di queste anzi un paio di queste le ho già dette continuando ancora allora prima di tutto il personaggio di fine è completamente inutile dice semplicemente quella frase re ti dovevo dire una cosa e poi non si sa mai cosa deve dire tutti ovviamente abbiamo immaginato che voleva dirle che l'amava il problema è che poi dopo succede quella cosa totalmente a caso in cui Ray bacia a Kylo Ren in punto di morte praticamente Kylo Ren le salva la vita, Ray era morta, lui infonde la sua vita in lei e si danno questo bacio completamente dal nulla perché cioè ok hanno avuto questo rapporto un po' strano in tutti i film però io non avevo pensato neanche un secondo che ci fosse questo rapporto addirittura di amore tra i due questo bacio completamente a caso anche se un mio amico mi ha fatto notare che sta a simboleggiare magari che lei ha portato veramente l'equilibrio nella forza perché si sa che i Jedi di solito non potevano avere rapporti con nessuno invece lei dando questo bacio magari sfata anche questo tabù ci sta però il bacio è completamente a caso questo è un dato di fatto e a proposito di Kylo Ren il personaggio a me è sempre piaciuto un botto fin dai primi film è stato è sicuramente per me il personaggio migliore di questa nuova trilogia il problema è che qui l'hanno trattato un po' così e così diciamo non lo hanno approfondito ancora più di tanto figo il fatto però come si è redento perché molti hanno criticato il fatto della morte di Leia che dice ben ben e poi muore non fa niente ragazzi secondo me invece quella è una scena veramente figa perché già Kylo Ren è stato sempre nel dubbio ma a lui bastava semplicemente un piccolo contatto con la madre anche solo sentirsi dire il suo nome a far capire che la madre comunque li voleva ancora bene perché lui aveva paura di questo che lo dice proprio in questo film in qualche scena che magari tornando dalla madre sarebbe stato troppo tardi quando parla proprio con Han Solo fichissimo quando gli appare Han Solo dietro comunque hanno sborsato un sacco di soldi di Harrison Ford comunque dicevo appunto a lui bastava semplicemente questo che la madre lo chiamasse che si ricordasse di lui per capire che poteva tornare indietro che non era troppo tardi secondo me quella scena è bellissima altro che ben ben come Marta eccetera eccetera stronzate a mio parere veramente quella scena secondo me è veramente bella invece e poi Rey è un assassino comunque mentre Kylo Ren stava un po' immobilizzato da questa cosa qui pam gli pianta la spada quello è stato un bel colpo di scena veramente Rey è psicopatica in questo film anche quando fa esplodere la navicella con i fulmini che crede di aver ucciso Chewbecka veramente fuori di testa poi infonde la vita anche lì hanno avuto da ridire su questo potere di infondere la vita ma per me ci sta tutto perché il fatto che questi nuovi Jedi diciamo ancora più potenti hanno scoperto questi altri poteri ci sta tutto ragazzi perché comunque la saga è andata avanti non siamo nel passato siamo nel futuro quindi il fatto che ci siano questi nuovi poteri è figo e quindi la morte di Leia in quel modo per me ci sta è una fine secondo me diciamo dignitosa per purtroppo un personaggio che non poteva essere più interpretato dall'attore realmente nel film altra cosa che mi è appena venuta in mente è un peccato che non abbiano sfruttato per nulla i personaggi dei cavalieri di Ren cioè veramente se si parlava di loro dal primo film adesso li hanno fatti finalmente vedere insomma non hanno combinato assolutamente nulla se non prenderle da Kylo Ren stesso almeno diciamo caratterizzarli un attimo singolarmente nulla non si è capito nulla io non ne ho distinto nessuno neanche le armi forse sono riuscito a distinguere perché si sono visti veramente per pochissimo per il resto il film comunque scorre molto bene io non ho trovato assolutamente tempi morti c'è un buon misto tra azione appunto dialoghi spiegazioni varie poi ovviamente c'è il colpo di scena incredibile in cui si scopre che Rey è la nipote di Palpatine però a proposito di quello non mi so spiegare chi diavolo fosse il figlio di Palpatine cioè quando l'ha avuto non hanno detto nulla di questo che rapporto aveva con il padre perché è scappato dal padre cioè non si è saputo nulla da quello forse faranno non lo so uno spin off sulla vita segreta di Palpatine io non lo so questa cosa potevano spiegarla un attimo insomma un attimino meglio chi fossero questi due genitori di Rey diciamo un po' tirata fuori dal nulla questa cosa qui comunque si giunge allo scontro finale tra Rey e Palpatine e qui ho qualcosa da ridire allora ci sono delle cose fighe fighissime delle cose che secondo me potevano essere fatte molto molto meglio e che mi hanno deluso un po' secondo me qui il film doveva dare proprio il meglio di sé la spinta finale per renderlo memorabile diciamo come il film conclusivo di una saga storica e a mio parere non ce la fa comunque allora Rey si reca finalmente sul pianeta dove si trova Palpatine lo raggiunge e Palpatine ovviamente l'ha esorta ad ucciderlo per prendere il trono dei Sith piccola parentesi Rey versione Sith era fighissima peccato che fosse solo un'allucinazione non fosse un vero clone magari creato da Palpatine sarebbe stato allucinante vedere un combattimento del genere altra cosa che mi è dispiaciuta veramente tanto spettacolare Rey versione Sith tornando al combattimento comunque c'è questa attesa perché Rey non sa se ucciderlo o meno a un certo punto decide di ucciderlo e poi mette la spada laser dietro e la teletrasporta diciamo a Kylo Ren che stava arrivando e lui mazzola ai cavalieri di Ren questa cosa qui di questa dicotomia della forza hanno chiamato una cosa del genere cioè loro due che sono collegati nella forza anche questa è stata veramente un'idea geniale fighissima che si possono dare le cose appunto attraverso la forza anche se sono in luoghi diversi e possono anche comunicare ovviamente è una figata questa comunque inizia il combattimento perché lei prende l'altra spada la spada di Leia questa cosa di Leia che si è allenata con il Yook anche l'ho trovata molto molto figa perché ci sta iniziano il combattere a un certo punto arriva Kylo Ren e lì si scopre comunque il piano di Palpatine che non era assolutamente quello di farsi uccidere da re come va detto quindi darle il trono ma era un piano egoista come al solito cioè lui voleva il potere ancora una volta e per farlo doveva riunire i due e rubargli la forza insieme per risorgere questa è un'altra figata che assolutamente non mi aspettavo sinceramente quindi lui risorge a piena potenza e spara quel fulmine incredibile che fa sbarellare tutte le astronavi quella è veramente una scena bellissima il problema è che dopo quella roba incredibile si pensava ad un potere maestoso inimmaginabile di questo lord dei Sith poi però che fa? spara i soliti fulmini addosso al re che con le doppie spade laser li para diciamo e quindi riesce a respingere questi fulmini e alla fine lui viene investito dai fulmini e muore Palpatine figura di merda glamorosa cioè da un personaggio potente come quello dopo che hanno fatto vedere appunto quel potere incredibile mi aspettavo un combattimento della madonna invece si è risolto in questa maniera veramente assurda poi a proposito sempre di questo è figo il fatto comunque che lui dice io sono tutti Sith e lei dice io sono tutti gli Jedi però quando dice io sono tutti gli Jedi io pretendevo che alle sue spalle apparissero i fantasmi di tutti i Jedi anche solo i più famosi non dico tutto l'esercito però anche l'esercito sarebbe stato figo però pretendevo una cosa del genere per concludere la saga almeno con questa scena memorabile perché io sono tutti gli Jedi con le spade AX senza nulla secondo me è stata una scena veramente poverissima per concludere questo scontro sarebbe stata una figata assurda che avrebbe fatto ricordare il film per sempre questa scena con tutti i Jedi avrebbe fatto perdonare secondo me tutti gli errori del film ne sono sicuro perché avrebbe proprio mosso il cuore di tutti gli appassionati invece no non c'è stata io non ci posso credere che il problema fossero i soldi da dare agli attori per una mezza scena li potevi ricreare anche in 3D bastava pagare i diritti ragazzi è stata una cosa assurda io volevo pretendevo quella scena e vi dirò di più sarebbe stato ancora più figo che lei avesse detto io sono tutti gli Jedi gli fossero apparsi tutti questi qui alle spalle e Palpatine dopo avesse detto io sono tutti Sith però a un certo punto si guardava dietro e non c'era nessuno perché era solo era solo lui l'egoista che voleva a tutti i costi questo potere e credeva di rappresentare tutti i Sith ma invece era comunque sempre stato solo in questa sua lotta per la conquista dell'universo sarebbe stata una scena epica io non so che problema ci sia stato per questa cosa qui cioè si scriveva da sola questa secondo me è la cosa che mi ha deluso più di tutte il combattimento che è stato veramente risolto in nulla praticamente la solita roba che respingi i fulmi lui si uccide praticamente da solo quindi tu sei solo difesa e non l'hai ammazzato tu ok ci sta però insomma non lo so anche un po' di spade laser incrociate Palpatine che tira fuori la sua spada laser nulla nulla solo i fulmi respinti morto comunque ragazzi io credo di aver detto tutto quello che avevo da dire riguardo questo film adesso tocca a voi farmi sapere il vostro parere con un commento qui sotto fatemi sapere su cosa siete d'accordo con me su cosa siete in disaccordo cosa ne avete pensato in generale riguardo questo film sono veramente curiosissimo infatti credo che farò anche una live sul canale Twitch a riguardo per parlare diciamo in diretta insieme a voi il like al video è sempre gravitissimo così come anche la condivisione detto questo noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti per la visione ciao da colezione per sempre